Eccoci, ben ritrovati. La cronaca in primo piano in questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Furto con spaccata in un distributore di San Giovanni La Punta nel Catanese. Sono intervenuti i carabinieri e uno dei malviventi è finito in manette. Vediamo il servizio. Due pattuglie della sezione radiomobile di Catania sono intervenute a San Giovanni La Punta dove hanno sventato il furto con spaccata presso un distributore di carburanti. I militari dell'arma, allertati da alcuni cittadini che hanno segnalato al 112 la presenza di tre individui incappucciati nei pressi del distributore, sono intervenuti immediatamente sul posto dove hanno notato la presenza di un'auto di colore rosso dinnanzi alla sala cinesca degli uffici dell'area di servizio utilizzata per infrangere la vetrata dello stabile dai malviventi, i quali una volta all'interno hanno forzato la cassa continua. Alla vista delle pattuglie i tre ladri si sono dati alla fuga ma sono stati rincorsi dai militari che sono riusciti a raggiungerne uno di loro e a bloccarlo dopo una colluttazione. La scena appariva disseminata di banconote di vario taglio, molte macchiate dall'inchiostro indelebile contenuto nella cassa continua che coprivano il pavimento dell'ufficio assieme ai resti di vetro e lamiera caduti a causa della spaccata effettuata con l'auto. All'interno dell'automobile, ritrovata ancora con il motore acceso, i carabinieri hanno recuperato le banconote in parte occultate in uno zenetto e in parte sparse sui sedili, oltre a una motosega e altri arnesi da scasso che i tre avevano adoperato per forzare la cassa. Gli accertamenti sul veicolo hanno permesso di risalire al proprietario che ne aveva denunciato il furto lo scorso 7 aprile e al quale il veicolo verrà riconsegnato dopo tutte le inconvenze necessarie a risalire agli altri componenti della banda. Il denaro recuperato ammonta a oltre 62 mila euro ed è stato riconsegnato a legittimo proprietario. Il membro della banda catturato, un 19enne pregiudicato, è stato portato in caserma e identificato e adesso dovrà rispondere di furto aggravato in concorso, ricettazione in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'autorità giudiziaria, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto per il giovane la detenzione domiciliare. A Campobello di Mazzara, nel Trapanese, i carabinieri, dopo un inseguimento, hanno invece recuperato un'auto che era stata rubata poco prima. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Mazzara del Vallo hanno recuperato, dopo un breve inseguimento, un'autovettura rubata a Campobello di Mazzara. La vittima aveva parcheggiato l'auto davanti la propria abitazione lasciando le chiavi all'interno in quanto doveva solo fermarsi un attimo. Approfittando della situazione, uno straniero è salito a bordo del mezzo e si è dato alla fuga. Il proprietario però ha notato quanto stava accadendo e ha subito contattato il 112 denunciando il furto. La nota di ricerca è stata subito diramata alle pattuglie in circuito che, in possesso dei dettagli forniti dal richiedente, si sono messe sulle tracce del presunto autore del furto. L'auto è stata intercettata dai militari dell'arma mentre sfrecciava sulla statale 115 con direzione Mazzara del Vallo. Dopo aver fatto inversione di marcia e un breve inseguimento, i carabinieri hanno recuperato l'autovettura abbandonata in mezzo alla carreggiata dal ladro che, vedendo la gazzella a sirene spiegate a pochi metri, ha lasciato il veicolo fuggendo a piedi tra le campagne. Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario con i militari che sono già sulle tracce del presunto responsabile, il quale verrà presto deferito alla Procura della Repubblica di Marsala. Un arresto per furto a Vittoria nel Ragusano. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri di Vittoria, transitando in Piazza del Popolo, hanno notato che era stato gravemente danneggiato un esercizio commerciale di distribuzione automatica self-service di bevande e snack, pertanto hanno deciso di chiarire quanto accaduto. Sul posto è stato identificato un testimone che ha fornito una dettagliata descrizione dell'autore del reato, indicandone poi la via di fuga. Percorrendo la via indicata, i carabinieri hanno notato un soggetto, corrispondente alla descrizione, entrare per una porta-finestra all'interno dell'abitazione di un noto pregiudicato sottoposto alla detenzione domiciliare, per poi, quest'ultimo, chiudere frettolosamente la predetta porta-finestra. I carabinieri, insospettiti da quanto osservato, hanno deciso di effettuare degli accertamenti, accedendo all'immobile e rintracciando un giovane romeno perfettamente corrispondente alla descrizione fornita dal testimone. Accanto a lui, i militari hanno rinvenuto dei cartoni contenenti varie bevande. Ulteriori accertamenti estesi sulla persona hanno poi permesso di recuperare anche gli snack occultati nei pantaloni. I carabinieri, dopo aver acquisito i filmati di sorveglianza dell'esercizio commerciale, hanno appurato l'esatta corrispondenza dell'autore del furto con la persona fermata. L'area furtiva rinvenuta è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l'indagato è stato arrestato in flagranza e tradotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Unitamente al responsabile del furto, i militari dell'arma hanno definito anche la posizione del pregiudicato sottoposto a detenzione domiciliare, che ha offerto rifugio al ladro poi arrestato, deferendolo in stato di libertà per l'ipotesi di reato di favoreggiamento personale. I carabinieri della stazione di Siracusa Ortigia hanno invece denunciato un pregiudicato di 41 anni per furto aggravato. Il 41enne, gravato dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, si è introdotto in una tabaccheria del capoluogo Aretuseo e approfittando della momentanea distrazione del titolare, ha trafugato il contante custodito nel registratore di cassa, dandosi poi alla fuga. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di identificare l'autore del furto, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria, alla quale dovrà rispondere anche di violazione degli obblighi inerenti, la misura cautelare. Parliamo ora di un'importante operazione della Guardia di Finanza nell'Ennese. Sono stati confiscati beni per 8 milioni di euro a un esponente della famiglia mafiosa di Pietra Persia. La Guardia di Finanza di Caltanissetta, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Enna, su richiesta della procura distrettuale di Caltanissetta, ha sottoposto a confisca un patrimonio stimabile nel valore di oltre 8 milioni di euro accumulato da Felice Cannata, esponente della criminalità organizzata ennese, già condannato con sentenza irrevocabile datata 11 novembre 2015 per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione alla sua appartenenza alla famiglia mafiosa di Pietra Persia. In relazione a tale patrimonio, il giudice ha ritenuto gli indizi sintomatici della provenienza illecita. Cannata, che nel tempo si è occupato di reimpiegare capitali di illecita provenienza in attività produttive del nord Italia, in particolare nei settori della compravendita di autovetture di grossa cilindrata, è stato coinvolto in un'operazione condotta dal GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta, sfociata tra l'altro nella pronuncia di condanna sopra richiamata. Sulla base delle plurime evidenze giudiziarie acquisite, risultate idonee a definire il profilo di pericolosità sociale del soggetto, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Caltanissetta, coordinati dalla locale direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito una mirata indagine patrimoniale nei confronti di Cannata e del suo nucleo familiare, onde verificare la coerenza del relativo tenore di vita e del patrimonio posseduto con i redditi dagli stessi dichiarati. In particolare, le indagini hanno permesso di riscontrare l'incapacità del nucleo familiare e della proposto a far fronte agli impegni economici assunti. L'insieme dei redditi dichiarati o percepiti, confrontati con il valore dei beni acquistati e con le ulteriori uscite rilevate nel periodo temporale di riferimento dall'anno 2000 in poi, sono quindi risultati sproporzionati rispetto alle acquisizioni patrimoniali operate, dimostrando un tenore di vita decisamente elevato e incongruo rispetto alle possibilità reddituali o derivante da fonti di lecita provenienza. All'esito dei richiamati approfondimenti patrimoniali, già nel gennaio 2018 erano stati acquisiti elementi idonei per consentire alla DDA di Caltanissetta di ottenere dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Enna il sequestro dei beni oggetto dell'odierna confisca, a seguito della quale vengono ora acquisiti al patrimonio dello Stato un'azienda agricola ubicata in territorio ennese, 77 terreni ubicati in territorio nisseno ed ennese, 11 fabbricati, rapporti finanziari e beni mobili registrati. A Catania i carabinieri hanno invece arrestato un rapinatore seriale il quale dopo aver fallito un colpo in una banca ci ha riprovato ma stavolta in una sala bingo. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno fermato e poi arrestato un pregiudicato catanese di 47 anni il quale ha tentato di rapinare la filiale Unicredit di Catania armato di un taglierino. L'uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'istituto mentre minacciava due operatori della banca avvicinandosi al loro volto con un taglierino. Ma quando i due impiegati gli hanno mostrato che non era possibile aprire la cassaforte prima dell'orario previsto, il rapinatore ha desistito dal commettere il reato fuggendo a piedi e confondendosi tra la folla. Rimasto a mani vuote, l'uomo si è diretto presso la sala bingo di via Milazzo, zona Piazza Europa e lì avvicinatosi a un'impiegata la insultata e minacciata di morte facendosi consegnare l'importo di 1000 euro contenuto nella cassa. Entrambe le vittime hanno sporto querela e i militari dell'arma sono riusciti a risalire all'identità del rapinatore grazie alle riprese degli impianti di videosorveglianza riconoscendo che si trattava dello stesso uomo poiché aveva un tatuaggio con una croce sul viso. Rintracciato, il malvivente è stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto, tramutatosi poi in un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di custodia cautelare in carcere per tentata rapina aggravata e rapina aggravata in quanto si era avvalso del taglierino per convincere le vittime a farsi consegnare il denaro. Una coppia di catanesi è stata invece arrestata dai carabinieri a Siracusa. I due avevano infatti nascosto la droga da spacciare nel quadernone del figlio. 350 grammi di cocaina purissima e pressata nascosta tra le pagine del quadernone del figlio. E questo l'ingegnoso nascondiglio scelto da una coppia di catanesi sorpresa a un posto di controllo dei carabinieri. I due a bordo di un'autovettura a noleggio in transito nella frazione di Belvedere di Siracusa sono stati controllati dai militari dell'arma a cui hanno subito riferito di non portare con loro alcunché di illegale dicendosi sorpresi per il controllo. Nonostante la sicurezza ostentata in modo particolare dall'uomo l'attenzione dei carabinieri è stata attirata dalla donna che stringeva forte a sé la sua borsa. I due sono stati dunque condotti presso la stazione carabinieri di Belvedere e sottoposti a perquisizione personale e veicolare. All'interno della borsa della donna è stato rinvenuto un quadernone contenente disegni verosimilmente realizzati da bambini. I militari hanno notato che il quadernone appariva troppo pesante rispetto al suo naturale peso e infatti al suo interno abilmente occultato celava un foglio pressato di cocaina purissima del peso complessivo di 350 grammi. La coppia è stata arrestata e su disposizione del pubblico ministero di turno della procura della Repubblica di Siracusa l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Siracusa Cavadonna mentre la donna in quella di Catania Piazza Lanza. I carabinieri del comando provinciale di Siracusa quotidianamente sottopongono a controllo centinaia di utenti della strada scegliendo sulla base dell'intuito e dell'esperienza i soggetti meritevoli di maggiore attenzione investigativa da perquisire. Parliamo di politica. Ha fatto discutere e continua a far discutere la scelta di Giancarlo Cancelleri di lasciare il Movimento 5 Stelle per passare a Forza Italia. Non ho mai avuto nemici, ma dichiarato lo stesso Cancelleri, ma solo avversari politici che ho sempre rispettato e da cui ho ricevuto rispetto. Due cose, dice, mi hanno colpito di questo ovviamente passaggio a Forza Italia. La prima, il concetto di comunità espresso dal ministro Tajani riferendosi al lavoro sinergico che fanno all'interno di Forza Italia. La seconda invece è la verve mostrata dalla presidente Schifani. Il Movimento, ha aggiunto Cancelleri, mi ha proposto la candidatura al Consiglio Comunale di Catania e io ho rifiutato, scegliendo di andare via e non candidarmi in un mondo in cui tutti lasciano il proprio partito per una poltrona. Io sono entrato in Forza Italia rinunciando a una poltrona. Queste le parole dell'ex 5 Stelle Giancarlo Cancelleri. Parliamo adesso di cultura. Il giornalista Simone Russo ha presentato a Sant'Agata Libattiati nel Catanese il suo primo libro. Ci racconta tutto Lucio Di Mauro. Da un'esperienza traumatica come quella di restare 41 giorni in isolamento a causa del Covid, Simone Russo è riuscito a tirar fuori tutto il senso più bello di essere positivi. Simone, l'animatore, racconti di un capovillaggio. Infatti è stato scritto nei 41 giorni di isolamento. Il giornalista Simone Russo ha deciso così di mettere nero su bianco i suoi momenti positivi. Un libro che si pone l'obiettivo di dare un senso doppio a questo ormai triste termine. Questo libro è frutto di un periodo brutto della mia vita perché nel 2021 sono risultato positivo al Covid, la variante Delta, uno dei primi siciliani a prendere la variante Delta e quindi sono stato chiuso in isolamento. Io sono uno di quelli che si dice un paziente Long Covid e sono rimasto positivo 41 giorni. Incredibile questa cosa. Per fare l'isolamento sono andato in una casa disabitata per non stare con la mia famiglia perché nel 2021 faceva paura il Covid. Quindi ho vissuto in questa casa dove non c'erano le utenze perché era una casa disabitata. Quindi per 41 giorni senza acqua, luce e gas. Per non impazzire ho detto butto giù delle idee. Seguito da un mio amico psicologo mi ha detto guarda prendi foglie e penna e butta giù delle idee. Sono tornato indietro quando io avevo 20 anni, 18, che ero nei villaggi turistici in giro per l'Italia dove appunto regalavo momenti positivi perché prima di questo virus, prima di questa pandemia il termine positivo era un termine bellissimo e io regalavo positività nei villaggi. Quindi da positivo ho voluto raccontare i miei momenti positivi. Due termini, un termine uguale ma con due significati totalmente diversi. Mi piace sottolineare questo libro ha un valore doppio perché ha fatto bene a me per superare quei momenti e soprattutto l'intero ricavato di questo libro sarà devoluto a un'associazione sciocca di clownterapia all'interno degli ospedali di Catania per portare positività all'interno delle strutture ospedaliere. Dobbiamo riappropriarci del termine positivo che è un termine bellissimo. Dobbiamo riappropriarci sicuramente di questo termine positivo ma anche della nostra vita perché per un attimo ovviamente ci ha fatto soffrire eccetera. Tu hai davanti un'altra persona che ha avuto anche il Covid e per fortuna in forma leggera eccetera. Ma ecco, a proposito, chi deve leggere questo libro? Ma questo è un libro che fa bene a tutti. Da ragazzino che vuole entrare nel mondo dell'animazione alla persona adulta e comunque nel mondo dei villaggi, nel mondo turistico ci siamo entrati tutti. Quindi bene o male chiunque si troverà all'interno di questo libro perché è un racconto, un racconto dei miei dieci anni. Dieci anni di vita di villaggio dove io da capo animatore ho visto veramente di tutto. È successo veramente di tutto. Tutto quello che la gente non vede perché ovviamente la gente è abituato a vedere l'animatore davanti ma poi in realtà dietro c'è un lavoro intredibile e delle situazioni mega galattiche da carabinieri a ospedali a liti. C'è tutto all'interno di questo libro che deve essere letto da chi vuole un po' di spensieratezza e in questo momento ne abbiamo tanto bisogno. Parliamo di calcio e andiamo a sentire le dichiarazioni del tecnico del Catania, mister Ferraro, dopo la sconfitta sul campo del Trapani. Da questa sconfitta ripartiamo più forte di prima perché alla fine è stata una sconfitta che il Catania non la doveva fare però per quello che ho visto il secondo tempo un Catania con 5-6 palle goal, un goal annullato, un rigore non dato. Ho visto un Catania con una grande voglia e una grande rabbia al secondo tempo. Il primo tempo è stato inguardabile dal punto di vista mentale, l'approccio fisico. Nel calcio si sa, vince così tante partite, errore in motivazione e tutto. Oggi è la 34 partita, abbiamo fatto davvero tanti punti di vantaggio. Allora con un Trapani motivato, con voglia di fare questa vittoria, noi non avevamo la giusta motivazione, anche se quando ci mettiamo la media del Catania non deve capitare. Penso che, non lo so, forse non ho mai visto così tante palle goal come uno del Catania nel secondo tempo. Non ero nervoso, penso che la panchina del Trapani a un certo punto stavano stupendo in campo e non mi piace, mi piace che sono solo gli allenatori che stanno in piedi, tutta questa cosa. Catania è vero, è una squadra importante, non c'è niente nella Serie D, non c'è niente niente, però non è che uno batte il Catania e facciamo una vigoria sproporzionata. Questo non mi piace proprio nella cultura dello sport per questo. Loro erano molto importanti, ci tenero, l'hanno fatto bene, facci i complimenti al Trapani, come entro al pubblico, ci hanno fatto un applauso nella partita, è stata una bella accoglienza, però poi la panchina a un certo punto è troppo, Catania è Catania, Catania ha 31 punti dopo la seconda, ha 40 punti sopra il Trapani, Catania ha fatto un campionato stratosferico, oggi ci sento e noi non ci teniamo a prendere questa partita perché abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere, abbiamo una società che non vuole che abbassiamo la guardia, abbiamo un pubblico che ci aspetta ogni settimana che vuole una vittoria per questo. Diciamo che da questa sconfitta che abbiamo fatto, un primo tempo sotto tono e abbiamo fatto un secondo tempo da Catania, ripartiamo più forte di prima per affrontare questa pusciudetta in America Giuseppe. E con le parole di Mister Ferraro ci fermiamo, è tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.